Che ci fai tu qui? Ti ho detto che il campanello si deve togliere. Se la lasci libera senza il campanello potrà andare in giro, si guarderà intorno, ma poi tornerà sempre. Come le galline. Non come gli uomini. Sì, già, e invece tu ne hai presi altri poi di trofei. Non è così importante. L'arte non è in competizione. Ma com'è che voi siete arrivati così presto? Beh, in effetti volevamo utilizzare la casa per più tempo. Sì, e poi abbiamo qualche lavoro da finire prima di... Prima di cosa? Te ne parlo dopo. Ti avviso, Rambo. Ti sfiderò in battaglia e procederò alla conquista. Non credo proprio, generale. Sarà mia la vittoria. Siete davvero orribili. Vieni, Ro. Oh, Clem. Stiamo giocando. Oh, guarda. Come può vivere là dentro. Ho paura. Ma papà dice che abbiamo paura delle cose che non abbiamo mai visto. Perché non le conosciamo? Da quel giorno la chiamo la strega. Perché? Perché parla col suo cane. Aspetta. Anch'io ti parlo. Beh, se c'è qualcos'altro che non ti va bene, dovresti dirmelo. Non fare finta che sia tutto una sorpresa, perché conoscevi benissimo la situazione già prima. Non dico certo che sia una sorpresa. Ti sto solo chiedendo. Due minuti per sederci e parlarne con calma. Non dico certo che non ti va bene, dovresti dirmi la storia. Non dico che non ti va bene, dovresti dirmi la storia. Non dico che non ti va bene, dovresti dirmi la storia. Vita da Gatto Dal 18 aprile al cinema